Ha percorso 35 chilometri in bicicletta per portare un fiore sulla tomba della bisnonna deceduta l'altro ieri, protagonista della storia nel giorno della commemorazione dei defunti, un ragazzino di 11 anni, Giovanni, nome di fantasia. Si è messo in sella a mano calzati ed è arrivato quasi quattro ore dopo al cimitero di Montemarano, dove risiede la famiglia. Dopo i funerali della congiunta, i suoi genitori si erano trasferiti per alcuni giorni a mano calzati in una casa di proprietà. Sono state ore di ansia e preoccupazione con appelli e fotografie pubblicate sui social dai genitori per il ragazzino che sembrava svanito nel nulla. Nella tarda mattinata, il sospiro di sollievo. Giovanni è stato riconosciuto dai visitatori del cimitero di Montemarano che si sono messi immediatamente in contatto con i genitori. Sono andato a salutare nonne sterina, detto ai genitori, dopo essere stato riaccompagnato a casa, appena provato dai tanti chilometri percorsi pedalando.